Benvenuti, pinguini! Oggi, in questo vlog, farò qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. In un periodo in cui, diciamo, tutti noi stiamo vedendo i nostri Spotify Wrapped del 2023, ho pensato perché non posso fare una cosa simile per il mio canale. O meglio, non posso vedere le vostre, diciamo, dati personali su come e quando vedete le cose sul mio canale, però posso farvi vedere, ed ecco il motivo di questo setup di oggi, perché sono davanti al computer, tutti i blooper che faccio durante le riprese dei miei video. Allora, io ho selezionato tutti i blooper di un anno a questa parte, quindi poiché non siamo proprio alla fine del 2023, quindi ci sarà anche un video del 2022. Che tal'altro? Cioè, ho qua la lista davanti, non so se voi riuscite a vederli. Sono tutti video di storia. Non so per quale motivo, per quanto si riguarda i video di FKStoria, sono quelli in cui smadonno di più. Certo, è normale che quando faccio le riprese magari mi posso impappinare, una cosa mi esce male e la ripeto, però, diciamo, non è questo il caso, non vi faccio vedere quei momenti. Ma vi faccio vedere quei momenti in cui proprio io perdo la pazienza. E ne ho trovati parecchi, anche se pensavo di trovarli di più, però, diciamo, quelli che ho trovato sono un po' pesanti. Infatti, l'idea di fare questo video è anche quella di portarvi a voi un video, ops, è cascato il cellulare, uncut. Quindi non farò un montaggio su questo video, mi limiterò semplicemente a mostrarvi lo schermo quando serve. Metterò ovviamente i beep alle madonne che tiro, perché ne tiro parecchio. Metterò ovviamente la color correction, quella che faccio sempre. E il motivo per cui cito il fatto della color correction è perché alcuni segmenti, sono segmenti che non sono mai venuti, cioè non li avete mai visti, altri segmenti sono segmenti che sono effettivamente venuti nel cut finale, ma poi sono stati tagliati quando perdevo la brocca. Quindi, cosa succederà? Alcuni spezzoni che vedete avranno la color correction, quella che poi avete visto nel video, e poi io la disattivo per farvi vedere quello che è successo poi nella parte tagliata. Alcuni sono, come dicevo, parti completamente tagliate, quindi sarà semplicemente un video senza color correction, però, diciamo, la brocca l'ha aperto. E quindi andiamo a vedere questi video. Dunque, il primo che porto è quello del video in cui parlo della storia di Python, che tra l'altro quel video della storia di Python già non è venuto bene, perché avevo messo male la messa a fuoco, non avevo tempo di rigirarlo, è venuto sfogato, quindi già là partiamo, non so con quante madonne, fuori, diciamo, dalle riprese, quando poi ho rivisto i file. Però magari iniziamo, diciamo, con la prima clip, che se non ricordo male, la prima clip è proprio per entrare nel mood, non è parecchio volgare. Andiamola a vedere. Linguaggio di programmazione sviluppato dal... Ma porco... Insomma, mi è partito un piccolo porcone, perché mi è saluto una specie di singhiozzo, non so se ero brutto, non lo so che cosa mi è successa, tra l'altro questa cosa è successa un anno fa, e quindi non posso andarmi a ricordare esattamente cosa mi era salito, non lo so. Vabbè. Linguaggio di programmazione sviluppato dal Zendrum Veskunde... Come si chiama? E aveva la presunzione... No, non mi piace. Di cui già avevo parlato in questo video. Cioè, in questa parte io dico una cosa, aveva la presunzione, non mi piaceva, quindi io dico, non mi piace questa cosa, e poi parlo di un'altra cosa completamente diversa, ora ovviamente non ricordo cosa stavo per dire, ovviamente poi sarà, quel giorno ero particolarmente raffreddato, quindi c'era questo spettorato di brutto, e poi indico di guardare non so quale video. E questi, diciamo, queste due cose erano quelle che riguardano il video più leggero, ovvero gli smadonnamenti dietro le guida più leggeri. Andiamo a vedere questo video, che credo che sia quello della storia di Linux. La storia di Unix e DC vanno di pari passo, e quindi vi consiglio di andare a recuperare questo video, anche perché citerò i stessi personaggi. Dunque, siamo alla fine degli anni Sessanta, l'IMIT è poco... Allora, ovviamente queste scene già le avevo viste quando le ho estratte dei video, però ogni volta che le guardo, questa, ma anche le altre, mi viene sempre da ridere. Anche perché io non ricordo il motivo per cui stavo smadonnando, cioè non ho capito cosa stesse succedendo, perché, cioè, forse avrò avuto qualche problema con... come si chiama, il teleprompter forse è andato più avanti del dovuto, non lo so, però qualcosa è successo dietro la telecamera che mi ha fatto smadonnare. Trova l'amore, una donna landensa, e si trasferisce... La porco di... La Commodore rilasci... Nel frattempo è partito anche il video successivo, quello di... della storia di... Amiga. Riguardiamo la sequenza di poco fa. Trova l'amore, una donna landensa, e si trasferisce... La porco di... So cosa sia successo, forse anche qua la stessa cosa, perché non so se qua l'ho riuscito a notare, io sto tenendo in mano il telecomando del teleprompter, forse... Era andato forse troppo veloce o troppo lento, non lo so. Andiamo a vedere appunto il video della storia di Amiga. La Commodore rilascia nel 1985 questa nuova linea di computer dedicata al mercato consumo. Amiga. Questo computer montava un processore Motorola... Questo computer montava un processore Motorola... A porco di demonio. Sicuramente qua... Sarà un caso simile al caso precedente, il teleprompter sarà andato troppo in alto, mentre io stavo ripetendo quelle cose che non mi uscivano per qualche motivo e quindi poi è partito qui... Una blasfemia rifinito al demone. Va bene, vai. E fa la semplice, la Hyperion impiegò più tempo di quello contratualizzato. E al termine dello sviluppo, la Hyperion... E al termine dello sviluppo, il contratto diceva che la Hyperion non poteva... E porco di... Andiamo avanti. Questo è il video HS2314, credo la storia di non so cosa. Delle versioni addirittura di Windows, in particolare di Windows della serie 9X, che poi alla fine Microsoft... Che poi alla fine Microsoft... Che poi alla fine Microsoft soppre... Che poi tua mamma... Che poi tua mamma... Che poi tua mamma... Non mi riveniva Microsoft, cioè proprio in quel momento Microsoft non mi voleva uscire, quindi questa volta c'è andata di mezzo la mamma di qualcuno. Andiamo al blooper dello stesso video, ovvero al secondo blooper dello stesso video. Altre controverse legali videro Gary Kildal al centro dei riflettori, perché sosteneva che PC-Dosso contenesse il codice direttamente preso da CPM, ma all'epoca la legislazione non era chiara come oggi. Ma all'epoca la legislazione non era chiara come è quella di oggi, e quindi lui non può... E quindi lui se la prese in sacco oggi. Questo sarà sicuramente un altro smadonnamento sul fatto che il teleprompter forse era troppo lento, infatti io a un certo punto interrompo la frase per aspettare che mi salga sulla riga successiva, e poi sarà... Ho avuto pure quella riga, ho terminato, ed è partito l'insulto che se la prendo in saccoccia. Ma tratto che questo video di PC-Dosso, è quello con più blooper. Quindi si mise in contatto con la digital research, ma purtroppo non raggiunse un accordo. IBM voleva pagare 250.000 dollari per la recesa di CPM, ma loro invece volevano un qualcosa che pagasse le royalty. Cioè, volevano un accordo che per ogni copia... Cioè, volevano un accordo in cui per ogni singola vendita dei loro computer e con il loro sistema operativo, loro venivano... Loro volevano che venisse corrisposta a una percentuale. Ma porco del demonio. Loro volevano il... Sicuramente non... Cioè, credo che in quel momento mi sia passato per la mente che non mi era venuto bene. Cioè, non mi era riuscita bene, quindi... Alla fine ho realizzato che loro volevano il c***o. Niente, una... Una battuta. Andiamo avanti. Nelf! Porco... Ma purtroppo le cose... Questo video ha l'audio sincronizzato... Ha l'audio disincronizzato, come mai? Nelf! Porco... Ah, questo è un fuori programma che non mi sarei aspettato. Vabbè, lo rivediamo dopo. Vediamoci gli altri, poi apro dopo Premiere e vediamo se riusciamo a trovarlo. Ma purtroppo le cose non andarono bene. Nel 2001, la pro... Nel 2001, le proprietà intellettuali di Bios... Ma porco... Niente. Il classico problema di... Di... Del teleprompter. Vediamo il secondo blooper. Questo, non so se l'avete capito, questo era il video della storia di Bios. Ma purtroppo le cose non andarono bene. Nel 2001, la proprietà intellettuale di... Ma porco di... Le proprietà intellettuali, tua mamma. Qua ne avevo per tutti, ce l'avevo un insulto per tutti. Sia per le divinità che per le mamme. Allora, qual era quello con l'auto non sincronizzato? Non so perché non era sincronizzato. Quindi si mise in contatto con la visione... Ma era questo. NERF! Ma perché è uscito così? Era il quarto blooper di HS2014. Vediamo dopo Premiere che succede. Ovviamente qua metterò dei tagli. Allora, era... Questo. Quindi si mise in contatto con la... No. NERF! Ah, è proprio disincronizzato proprio dal principio. Mmm, strano. Vediamo se riesco a recuperarlo. Se mi ricordo la combinazione di tasti. NERF! Ecco, ci siamo. Vediamo se riuscite a vederlo dove era il problema. NERF! Porco! Il problema è che mentre io sto parlando non so cosa sia successo a Windows e mi arriva una notifica e quindi... Cioè, mi interrompe. Quindi... Cioè, si sarebbe sentita poi nell'audio finale. Infatti si sente, no? Guardate. Qua. Riprendo. NERF! PORCO! E me la prendo in maniera non molto simpatica. Anche perché, comunque, avendo la Creative Common... No, come si chiama? La Creative Suite. Come si chiama? Quella roba di Adobe. Creative... Salah, madonna. Adobe Creative Cloud. Ecco come si chiama. Quindi io utilizzo Audition per registrare come... No, adesso non sto registrando perché sto utilizzando OBS per registrare sia l'audio che il video che registro a schermo e quindi registro su Windows. Però, cioè, non è che io mi ricordo di togliere l'audio o di fare queste cose quindi ogni tanto succede che salta una notifica che è, d'altro, una cosa molto rara e più di volte è una cosa che accade tipo quando avvio Windows quindi già ancora non è che io abbia iniziato a registrare. Però in quella circostanza non so che notifica mi fosse arrivata forse di qualche aggiornamento ho fatto la mia idea e quindi me la sono presa male. Bellissimo, Pinguini. Questo era, diciamo, il riassunto dei blooper del 2023. Ecco, tra gli altri smadonnamenti che succedono è quello che mi si stacca la telecamera. Non mi stacca la telecamera perché ha un bug ma ha un limite di minuti di registrazione che posso fare in 4K che è di 15 minuti e non mi raccolto che tempo era passato. Bellissimo, Pinguini. Come vi dicevo questo è il mio tentativo di portarvi i video o meglio i dietro le quinte che a me succedono ovviamente di dire le quinte quelle più belli in cui smadonno con classe o forse non sono con classe prenderò un impegno che per l'anno prossimo prenderò nota dei video in cui ci sono dei blooper così li trovo più facilmente per il Natale che verrà perché ovviamente io già devo pensare al Natale futuro non a questo che sarà fra quanto? Tre settimane? No Natale futuro così ogni anno la facciamo una sorta di evento di ricorrenza quello di riportare i mesi mattornamenti oggi me ne ho portati quando ero una decina più o meno ma in futuro spero riportarvi qualcosa di più intrigante che tra l'altro queste mie esternazioni sono tutte genuine perché io chi mi conosce sa che perdo la brocca in quella maniera e quindi io cosa c'è da dire? Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione ovviamente faccio la classica chiusura se non siete iscritti al canale fatelo perché porto dei video a cui diciamo metto molta passione e molti di voi stanno gradendo e quindi io cosa c'è da dire? Grazie ancora una volta per la vostra attenzione per aver trascosso il vostro tempo con me e ci vediamo alla prossima ciao chilo ciao ciao Grazie a tutti.